E questo momento debba essere sottolineato come significativo per tre motivi, tre termini che voglio richiamare. Il primo è novità, una nuova scuola e una scommessa sul futuro, non solo delle giovani generazioni ma anche delle nostre generazioni, una speranza in un mondo di pace e di cultura e un impegno educativo per l'oggi, soprattutto un impegno educativo per l'oggi. Bellezza, vi renderete conto che questa è una scuola bella, non solo una scuola sicura, non solo una nuova scuola ma una scuola bella e la bellezza non passa e ci educa. Giustamente Dostoyevsky faceva dire al principe Mischini, lei che cosa ne pensa? Il mondo sarà salvato dalla bellezza. Infine, un terzo concetto che voglio esprimere e con cui concludo è il concetto di progetto. Crediamo molto nel progetto. Questa scuola si colloca in una serie di interventi nel territorio che vedono l'ampliamento già concluso del presso scolastico di Pianesco. L'intervento che sta iniziando nella sua fase di progettazione esecutiva alla scuola alimentare di Paella, purtroppo chiusa per motivi di sicurezza. E tutta una serie di interventi in questi anni sono stati ininterrottamente portati avanti dell'amministrazione.